buongiorno della vrg live buon cammino il caldo non da trego per fortuna che sono un po l'ombra un posto meraviglioso buona giornata a tutti ci vediamo fra un po cominci a scendere la salita scollinato che sta il fiorentino sempre piano perché bagagli pesano piuttosto che spaccare qualcosa chi va piano la sana va lontano allora c'è il conto la salita Grazie. La Toscana è sempre bella, c'è poco da fare. La Toscana è sempre bella. Comunque io ho dei pellegrini qua e non ne vedo. Comunque io ho dei pellegrini qua e non ne vedo. Comunque io ho dei pellegrini qua. 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 Comunque io ho dei pellegrini qua.